La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone un video contenente una bella galleria di foto, aventi come soggetto un magnifico esemplare di Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, appartenente all'ultima serie prodotta, e immatricolata nel corso dell'anno 1992. Nello specifico, la Lancia Delta Integrale è stata una potentissima vettura, esplicitamente progettata dalla casa madre allo scopo di partecipare al campionato del mondo rally, contraddistinta sportivamente dalle brillantissime prestazioni che sviluppava, e meccanicamente dall'adozione di un propulsore turbo compresso dotato di distribuzione a 16 valvole, nonché dalla presenza della trazione sulle quattro ruote. In ragione delle loro ottime qualità complessive, le versioni da competizione di tale vettura nel corso della sua brillantissima carriera sportiva raccolsero un impressionante quantitativo di vittorie, ed ovviamente ciò contribuì alla nascita di una vera e propria aura leggendaria attorno a tale modello, che venne prodotto a partire dall'anno 1988, e sino all'anno 1993. Di fatto esso rappresentava l'ultima evoluzione della vettura designata come Lancia Delta HF 4VD, ossia una particolare versione della comune Lancia Delta, che aveva esordito nel corso dell'anno 1986, e che era rimasta in produzione sino all'anno 1988. Grazie a tutti! 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 Ogni settimana la Giuseppe De Maria Production pubblicherà alcuni video dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.